Ehehehe T'ho fregato, stai guardando lì parla sopra eh No, no, stavo a guardarlo là Bene ragazzi, benvenuti qui sul canale di Grannas E oggi siamo qua Siamo qui con una nuova sfida E ogni volta lui mi frega sul link Ragazzi di video Glyn Smith, Jamie Dines, Sotto Torchio Madman Possiamo partire col dire in cosa consisterà questa nuova sfida Allora, in italiano suona male, però è la 7 secondi challenge E siamo qui perché praticamente uno deve fare all'altro una cosa in 7 secondi Esatto, come un vine, esatto Nel tempo di un vine, wow E' proprio tipo da trailer cinematografico Cose riuscite nel tempo di un vine Quindi io siccome sono bastardo e voglio far iniziare bene il video, bere un litro di acqua in 7 secondi, che cazzo è Vai, vedi se ce riesci Non hai detto ce le riusci per forza Allora, questa è un litro e mezzo Un litro e mezzo Non ce l'ho da un litro Più o meno fino a qua Pronti eh? In te c'era 7 secondi, pronto? Per timer Uno Due Tre Quattro Cinque Sì Sì Che cazzo stai affatto Con acqua Vabbè ci sono andato vicino Sì Ma perché si era piegata? Perché dovevo fare trappi acqua possibile All'interno tipo c'era la bolla che Vedivi che ce ne va a forza Vabbè e comunque non ci è riuscito quindi Vabbè dai Sì ci è andato un po' molto molto vicino a nullare la bevuta Che mi giro la testa Io invece ero partito bene Cioè ero partito senza fare cose stronze Vabbè in questo qua verrebbe fluidificare il video Vedi vedi in 7 secondi 5 parole che iniziano con la S Con la S Uno All'altra la decidete Due Stronzo Tre Sieracusa Quattro Salerno Sicilia Salona Che cazzo Un a zero per lui Vabbè però mi era impossibile E dai Allora elencami 10 regioni italiane in 7 secondi Vai Ma è impossibile Ce la fai Vai Lazio Piemonte Liguria Valdavosta Trentino Alto Adige Sicilia Puglia Sardegna Ma a me veniva da dico senza Invece di Calabria Non c'è riusci Puglia Mi devi dire in 7 secondi Tutti i nomi I nomi di COD Dal 4 A quello Che sa per uscire 1 2 3 4 2 6 6 7 E non ce la fa Quindi siamo ancora sull'1 a 0 per te Sì Vai Fai 1 In 7 secondi ora mi dovrà dire la formazione della Roma Titolare Senza panchinare i cazionari Allora De Santis, Col, Castan, Manolas, Maicon, Pjanic, Nangolande, Rossi, Gervinio, Totti, Florenzi No Mamma Tipo quando sei partito ho fatto Cioè tu hai detto De Santis il secolo E hai fatto 1, 2 Così Stava conto ai giocatori tuo Invece che i secondi Però ce l'ha fatta Mamma mia spuzzo La Roma sono forte Non me batte nessuno Ce l'ha fatta Vai In 7 secondi Devi mettere 5 mollette sulla faccia Dai Guarda ho preso quei fiorellini Quei fiorellini Te l'ho preso Dai So 5 Dalla mia molletta è 1 2 3 Aiuto Aiuto 4 4 5 6 Aiuto 7 No Sul bong Ah 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 Oh ma quanto stringono ste cose Sono quei fiorellini Porco due che dolore Ma guarda che infamità C'hanno proprio il cosetto qua tipo il rotondino che fa ancora più male Eh La quarta diciamo sfida E Fare l'imitazione di un mimo In 7 secondi Non so come si faccia Vado 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 Non si è fatto Se tu potresti il mio timer Io l'ho già fatto L'ho fatto anche in meno di 7 secondi Cioè E' vero E' vero E' vero E' vero E' un mimo che fa qualcosa Eh no un mimo In effetti è giusto Allora In 7 secondi devi fare l'imitazione di un mimo Quindi devi simulare comunque un' ascesa di scale Cioè un mimo che scende le scale In 7 secondi Ce l'ho Vai 1 2 3 E' caduto Il mimo è caduto Vabbè ci stava dai Recupero 2 a 1 per me Allora In 7 secondi Vai in cucina Prendi Una forchetta In 7 secondi Sì Oh appena per la prima volta parte eh Ah quindi appena per la prima volta parte eh Sì Ah affanculo Io sto volendo dire 1 2 3 4 5 6 7 Ah affanculo Ah in 7 secondi Deve In 7 secondi che abbastanza Sì in 7 secondi Un tempio che stavo a far così eh In 7 secondi deve mettersi 4 magliette addosso in più di quella che ha La preparazione importante È la cosa più importante eh Certo 3 2 1 Vai 1 2 3 4 5 6 E' impossibile 7 6 Continua a mettersele 6,9 6,91 7 quarti 6,7 7 Non ce l'ha fatta ma almeno ti hai messo 5 maglietti addosso Perché io Ho caldo È freddo che sono Ho caldo Ho freddo Do Ah in 7 secondi mi devi imitare una giraffa Uno E che un posso Una giraffa che mangia Un'altra Un'altra C'è Non ho il collo lungo Ho il clino Ehm A me piace questa sfida Lasciate 2.000 mi piace E niente Morite mai Ciao Yoh